Redi Luca, abbiamo sentito il Premier Berlusconi che dice che entro la fine di questo mese sparerà la spazzatura dalle strade, il termo valorizzatore di Acerra entrerà in funzione entro gennaio. La politica in questo momento risponde che non c'è tempo di mediazione, ormai superata quella fase. Se non c'è tempo di mediazione va allo scontro frontale e militare con le persone. Si fanno ammazzare quelli ma la discarica non se la fanno mettere, passerà sul loro cadavere. Quando non esiste l'idea che è finita la mediazione, questo non è possibile. Se no è guerra civile, quando finiscono le mediazioni è guerra civile, non è possibile. Le mediazioni esistono sempre.